La notte scorsa alle 21.40 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 69 in via Mazze di Sotto a Lusiana in provincia di Vicenza per un'auto finita contro dei massi a bordo strada dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito insieme ad un passeggero. I pompieri sono arrivati da Asiago e hanno messo in sicurezza la Fiat 127 di interesse storico ed estratto i due giovani che sono stati presi cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferiti in ospedale a Bassano del Grappa. Sul posto i carabinieri per il rilievo del sinistro. Le operazioni di vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore con la rimozione dell'auto da parte del soccorso stradale.